Da pochi mesi, segretario della Femca CISL, quali sono i progetti e quali sono state le difficoltà iniziali? Diciamo che in questo momento io mi sto ancora accasando in questa bellissima categoria, ha fatto un bel lavoro il segretario uscente, Fiorenzo Timboli, anzi ne approfitto per fare i ringraziamenti, che mi ha lasciato una categoria veramente forte. La provincia di Savona è una provincia difficile, non semplice, che ha sul territorio diversi stabilimenti che oggi presentano anche alcune problematiche, ad esempio Caso Ferragna, Italiana Cocca e altri settori della chimica che ahimè oggi seguono un pochino il destino nazionale dell'abbandono della chimica. È una situazione comunque che intraprendo volentieri, con lo spirito ritengo giusto, ho dei bravi collaboratori che mi danno una mano, cerchiamo un pochino di fare un buon lavoro.